Che cosa è successo? È successo che è partita una campagna mediatica tra l'altro proprio da chi poi, in particolare il Partito Democratico, da chi poi ha in parte partecipato alla situazione alla quale ci troviamo oggi. Primo perché Letta le tasse le ha aumentate, le ha cise le ha aumentate e non le ha mai diminuite. Secondo perché tutta la politica sulle raffinerie che oggi è uno dei temi che ci porta all'aumento del greggio è una politica fatta dal Partito Democratico e mi pare di aver capito oggi anche appoggiata dal Movimento 5 Stelle. Allora è chiaro che se tu in Italia non fai raffinare la benzina costa di più perché la devi andare a comprare da un'altra parte, non ci vuole diciamo Einstein per capirlo.